Intro Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Borderlands 2 E siamo qui in questo primo gameplay E' troppo bello questo gioco ragazzi E' veramente... poi non mi lagga E questa è la cosa bella Ah full, ah sono pieno va bene Qua cosa c'è? Dirty X Qua here, niente E qua Dovevo seguire il robottino Però guardate che salti che fa Sì mi sembra che fa... sì sì è di qua, tanto basta vedere nella mappa Devo capire come si colpisce però il... Ah V smash, ah con la V è brutto però con la V Se ti trovi male con la tastiera Qua cosa c'è? Cosa sono? Ah sono proiettili Qua... Soldi Qua niente Qua niente Questo si apre Questo... Ok andiamo di qua dove c'è il robottino Eccolo qua poverino Ma paura... Ah ecco... Oh... Eccoli là i primi nemici Dai venite qua Oh perché non... Oh perché non riesco a giocare più? Perché c'ho salma schifosa? Non voglio salma scittona Io non avevo questa quando giocavo oggi No 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 poverino Ok Let's go If you don't get my eye back We'll never get the sanctuary Ok Oh... Ah... Oh shit Oh shit No 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 Stai fermo tu Ah ma devo tenerlo premuto Oh no Si gioca malissimo così Wow Inizia che salto Wow 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 Aiuto 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 Dove sono gli altri? Ah ancora quello la vivo Quello? Che c'è? Ah non l'avevo visto Wow Ah questo era tipo un boss E qua Oh colpito Si ma ce la fai? Eh appunto non ci sono Andiamo Qua mi serve un po' di vita Ma come full? Vabbè Ah questo non posso prenderli Questo si Questo si Oh no niente Si il robot sta parlando intanto Ma non lo sto cagando per niente Quindi Ma come si cambia arma? Ma cosa devo fare? Cioè devo aiutarlo cos'è? Ah dig out Poverino Sono incastrato Eh andiamo Ah intanto ci sta parlando un Un certo Ce la puoi fare Un certo Handsome Jack Qua si può rompere Non c'è niente Qua vediamo Ok colpi And And Open Ok Ah adesso Ha detto che gli occhi Si sono aggiustati Oh cos'è? Oh shit baby Oh shit Devo capire però Come si cambia arma Come si chiama il knuckle dragger Ah ci lancia tipo Delle macchine enormi Tipo il boss Questo qua mi sa ragazzi Dov'è 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 Oh Ah ho capito Ah se lo becco in testa Aiaiaiaiaia Bellissimo la musica Poi dopo devo mettere Quella roba della musica Che mi sono dimenticato Di registrare Veloce Togliti robot Scittone Dove vai? Oh shit Sono arrivati i suoi servi Oh cavolo Cavolo Wow 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 Scendi scendi Oh shit Non ho più colpi Come faccio? Ok Uno è morto Ai 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 Come faccio? Del cambiare arma Come si farà? Ah forse Ah Mingamrad of the No 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 Ok Cos'è? Eh come si Ah Forse l'equipaggiata Oh bella Cavolo, cavolo Insomma fa schifo sta pistolina Dai che sei morto Oh, ce l'abbiamo fatta Ah, siamo saliti di livello Gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagn Ah, ok, ok, va bene Questi non posso prenderli, no Questi Full Quindi? Posso entrare? Oh, 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 oh Non ti bloccare, non ti bugare Oh, orate quante cose Ok, ok Ah, ma basta che li passo vicino Non c'è bisogno di Ok Cos'è? Ah, guard my eye? Great! Ah, ok, gli ho dato l'occhio Va bene, amico Ehm, cioè Eh, cioè Ah, ok Un gioco da ragazzi Vediamo E Come intrusi What, what, what? Eh, grazie Eh, grazie Ce la puoi fare, amico Ti sparo, ho capito Madonna Executing space shift Che cosa è che ha detto? Ah, ci ha fatto entrare la tipa Perfetto Hmm, vediamo cosa c'è qua Oh Ah, prendi tutto quello che vuoi per il tuo primo viaggio Full Ah, pick up, pick up, ok Vai, vai Prendi tutto Prendi tutto Prendi tutto Ma non si può switchare arma subito Non c'è tipo Ah, con R Vabbè, ti ricarichi Quello lo sapevo Cioè, ogni volta devo cliccare qua No Vabbè Equipped Ah, così Ma Così si fa Scita Prendiamo ancora degli oggetti Per sicurezza Full, full Tutto full, che Ah, pick up Ok Mi sa che possiamo partire Vediamo What's that? Wow Uuuuh Switch weapons using Ah, ecco, te lo dici adesso Ecco com'è Questa è bella Se no cosa c'ho? Ah, questa qua Perfetta E adesso Ah, talk Knuckle dagger Eh, cosa devo fare? Ah, interaction Quindi Ah, stava facendo qualcosa Il robottino Vediamo Vabbè, dai ragazzi Questo lo facciamo Nella prossima parte E c'è, ciao 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 Ciao